Che bello raga, il temporale mi tiene compagnia anche in questi momenti Salve a tutti ragazzi, bevete questo nuovo video, io sono ObsiaMaker Grazie Salve a tutti ragazzi, bevete questo nuovo video, io sono ObsiaMaker E oggi siamo tornati su ProStars E cosa faremo in questa puntata? Proviamo a avanzare, soprattutto perchè GXMatics, che è il radio del poker ragazzi, ha cambiato il nome Mi ha superato e lo devo risuperare immediatamente Allora, prima cosa, andiamo a prendere 10 monete e basta, non posso prendere niente per adesso E andiamo su Supervivenza Questa mappa E usiamo in questa mappa Useremo Bibi, che l'ho trovata purtroppo offline Perchè c'era una cassettina, dicevo vabbè mica ci posso trovare un nuovo broder Invece la sfiga è arrivata E me l'ha fatto trovare Quindi abbiamo anche Bibi ragazzi Ci sarà un broder che troverò On camera Non lo so di non andare Non lo so di non andare Prima di andare da quel Bibi C'era quello Tic Ce la posso fare Forza Vieni qui Chiudo Stecca Nascondiamoci 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 E andiamo a uccidere quello stecca Quello steccone Stecco Ciao Ciao Sì 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 Beh terzi Che scariadriste Non ucciderò le stecca Giavolo Perfetto Ragazzi Ora proviamo Sì Proviamo Sempre sovravivenza Perché non mi interessa Il gettone in stella E comunque continuiamo Magari oggi E arriviamo alle 4400 Che non sarebbe un cattivo traguardo E la cassa di nome Delle 4450 La parliamo insieme Stavolta andiamo al cerco C'è un'altra Bibi No C'è troppo roba No No Quella Bibi va presa Ragazzi No E' di essere mia No 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 Via Non via Baby fatta fuori Ragazzi Ho usato la super Gentilmente Quella Dove bene Ma sicuramente Se qualcuno Quella L'ho usata Una Bibi da secchi e burato Ho visto C'è Ma Sto bombi Sto veramente Non mi fastidio Ininteressebile Varmelo via Ma No 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 Sue Sì Un po' rimarrà in vita Per il Proprio Tutti i seguri dei secoli Una cassina Sì Un brawler hai visto che bel nuovo brawler quando riuscirò a portare Nita a livello 8 un po' ah ieri è sempre a livello 8 un barbino però devo stare un pochino più disfatte ecco e poi con questo nuovo aggiornamento ragazzi dopo tutto è anche più facile fare le cose le coppie senti ho ucciso Leon non è una cosa che si vede tutti i giorni che Leon uccide un bombardino per me è una gran cosa poi di qua non è venuto nessuno meglio così sta passando il mio pam questo è stato l'attacco dei giganti un frank da 8 aia vieni qua vieni in fronte si si vieni 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 no 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 che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è via via muori 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 cioè raga se lo uccidevi dovete fare non è possibile raga cioè oggi è proprio una sfida però qui 7 che non è male Abbiamo risuperato Oddio del poker No Lo supererò Dai no Non voglio fare tutta No dai Non voglio fare Tutta Questa competenza Quindi Quindi direi Comunque Di continuare Senza Comunque ragazzi Vlog Ci sta diventando Fortissimo Facci bene Quanto è forte Quanto ci sta diventando forte Un tempo Un tempo fa Facevo schifissimo Con Brock Ora Quasi il mio personaggio preferito Anzi spacco una cassa In cinque colpi Che è troppo Ovviamente Questo è campo Questo è anche Per farvi capire Cosa può fare C'è un altro Brock Mio Mio L'avevo detto L'avevo detto Però a me Mi spiace Oddio Dovevi darmi ascolto Siamo già in quattro Bene Perchè che sto andando in giro Con tante paura Con tante paura Eeeh Un po' con Leon No 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 Ti prego Ti prego rosa uccidilo 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 Vabbè Sono abbastanza morto Ho ucciso Quell'è Parichemente Stato solo sfingando Ok ora sono secondo Nel club ragazzi Quindi vi riconsiglio di entrarci Perchè potremmo essere molto più forti Con più membri Adesso facciamo una bella rapina Io rapina Secondo me Ci sta bene Anche brocchio Brocchio Non c'è più brocchio e rapina Raga tanto Algo oltre dice Leva solo due coppe Tre coppe Ma Buonissimo Di quanto ne leva Ne dovrebbe levare Di solito E' mappa spiaggia Bello Oh raga sono anche passato Ho vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Oh 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 yeah Vai 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 Il primo Vai il primo Vai il primo Però anche di questo Sto rompendo tutto Raga ho dovuto usarlo Perchè sennò La fine Oh raga Qualcuno vuole fare qualcosa La Qua No Non sappiamo fare niente Oh raga Ce la stanno rompendo Volete fare qualcosa No non sappiamo No non sappia sennò Non sappia sennò Sennò Babbo E mincavolo 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 Cioè Che gente è questa qua Cioè Mi aspettavo un po' di più E allora perché non usare La rosa Perché è proprio il grado 15 Potrebbe essere il mio primo bro Era il grado 15 Ma non al centro Se perdo Anzi forse anche al centro Ciao Shelly No, non ce l'ho a prendere No, ti prego No, no, no